I carabinieri della stazione di Adelfia la scorsa notte hanno arrestato una banda di sei giovani del posto, sorpresi a smantellare auto rubate per sottrarre pezzi meccanici da riutilizzare in altre macchine. I militari, appostatisi nelle campagne, hanno fatto irruzione all'interno di un deposito in contrada a Montelarino, sorprendendo i malviventi proprio mentre erano intenti a smembrare le autovetture rubate per occultarne la provenienza illecita, apponendo targhe differenti. I carabinieri si sono trovati dinanzi due autovetture di identico modello, di cui una interamente smontata e l'altra, oggetto di furto, su cui era stata già affissa la targa dell'altra, in modo tale da non far risultare la provenienza furtiva in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. Escamotage questo, poco lungimirante, poiché da controlli più accurati è comunque possibile risalire alla provenienza dei veicoli. Alla vista dei carabinieri, i giovani hanno tentato la fuga per le campagne, inseguiti a piedi dai militari che nell'immediatezza sono riusciti a bloccarne quattro, tutti a delfiesi e di età compresa tra i 19 e i 27. Due in fuga hanno le ore contate. Oltre alle due automobili, i carabinieri hanno rinvenuto arnesi, atti allo smembramento dei veicoli ed ulteriori parti di autovetture, su cui sono in corso accertamenti finalizzati a risalire alla loro provenienza. I quattro allestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Bari in regime di arresti domiciliari.